Ripartono da oggi, 2 ottobre, le vaccinazioni anti-Covid per le persone a elevata fragilità adulti o minori. La Toscana infatti ha fatto da apripista, essendo stata la prima regione ad aver aperto il 26 settembre scorso le prenotazioni per accedere alla somministrazione. Partita negli hub, partita la vaccinazione dei soggetti fragili istituzionalizzati, quindi nelle residenze sanitarie assistite, che sono ovviamente le persone più fragili. Poi piano piano partiranno anche le vaccinazioni fatte dal medico di base e dai pediatri di libera scelta che dovrebbero cominciare, se non cambia nulla, intorno alla metà di ottobre. E questo avverrà anche in contemporanea con il vaccino anti-influenzale. Le indicazioni che vengono date dall'AIFA e dallo Stato in questo senso sono quelle di poter eseguire due vaccinazioni nella stessa seduta, quindi l'iniezione anti-Covid e l'anti-influenzale nel corso della stessa seduta. Questo ha due vantaggi. Uno, che il cittadino va dal medico una volta sola invece che due. L'altra, che anche per il medico, diciamo che gli accessi all'ambulatorio diminuiscono. Non sarà più obbligatorio a chi è raccomandato? Assolutamente non sarà più obbligatorio per nessuno. e questo devo sinceramente dire che è una cosa che a me fa piacere. Mentre è raccomandato a tutte le persone, alle persone fragili, cioè in particolare alle persone che hanno un abbassamento delle difese organiche. Il primo quantitativo di vaccini anti-Covid è già stato consegnato. Sono 34.500 le dosi arrivate in Toscana a disposizione dei centri vaccinali delle aziende sanitarie. Dovrebbero essere gli ultimi, quelli basati sull'ultima variante, almeno gli ultimi disponibili in commercio in questo momento.